Restituita dall'autorità giudiziaria la Salma alla Famiglia dopo lo svolgimento dell'autopsia si svolgeranno nel pomeriggio a Salerno, presso la chiesa della Madonna del Santissimo Rosario di Pompei, i funerali di Gerardo, il 31enne detenuto presso la cassa circondariale di Avellino, deceduto il 24 dicembre nella sua cella, poche ore da Natale. L'esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino ed eseguito dal medico legale rivela che il decesso del giovane sarebbe stato provocato da una embolia polmonare. Gli inquirenti ritengono però necessario eseguire ulteriori approfondimenti per tentare di fare chiarezza sulle cause della morte del 31enne. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia di Gerardo e ha dolorato la comunità carceraria del pentensiero di Belizio il Pino e che ripropone con forza l'urgenza da parte delle istituzioni di intervenire per assicurare ai detenuti una più efficace assistenza sanitaria. La stessa direttrice della casa circondariale di contrada polverista Rita Romano ha convocato un vertice con provveditore ASL e con chiesto all'azienda sanitaria di dotare il carcere di operatori specializzati, figure che mancano da tempo nell'organico come lo psichiatra, il cardiologo, professionisti indicati per gestire i reclusi con problemi di tossicodipendenza. Nel 2023 ha sottolineato il garante per i diritti dei detenuti in Campania, Samuele e Ciambriello. Sono avvenuti 5 suicidi e 6 decessi le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Ciambriello chiede giustizia e verità sul caso di Gerardo ribadisce la sua vicinanza alla famiglia della vittima. Un'attenzione espressa sin dalle prime ore dopo la tragedia. Sulla vicenda è intervenuto anche il garante per i diritti dei detenuti della provincia di Avellino Caromele che ha invitato il prefetto Paolo Aspena alla convocazione di un tavolo a palazzo di governo tra i direttori delle carceri ilpine e responsabili della sanità sul territorio. Va rispettata la tutela della salute ai detenuti così non si può andare avanti bisogna evitare altri drammi dietro le sbarre a Bertemele.